Riparte in occasione delle feste il Polibus, la speciale navetta del comune di Napoli che accompagna gratuitamente gli spettatori nei teatri di periferia. La linea 1 del Polibus collega il centro con San Giovanni a Teduccio mentre la linea 2 collega il centro con Piscinola passando per il Vomero e per i Colli a Minei. E proprio a Piscinola al Teatro Area Nord il 21 e 22 dicembre si svolge il Festival Internazionale di Pianoforte da 4 a 24 mani, rassegna dedicata agli ensemble pianistici con due pomeriggi di musica e ingresso libero. E ancora musica a Sala Icos nel quartiere di San Giovanni a Teduccio col popolare duo delle Ebbanesis che venerdì 22 dicembre si esibiranno in Seren Viviti con un repertorio che spazia dalle villanelle napoletane al Café Chantan.